Allora ragazzi siamo rimasti 4 contro 3 e sono tutti separati forse Eh, gli interi sono scarsi Dai che l'ultimo la voglio fare Oh, se resta l'ultimo nemico non lo uccidete ragazzi, devo fare la kamehameha volante Eccoli, eccoli Ci andiamo a nascondere Eccoli quasi 120, ah ma è un botto uno C'è un botto che lo insegue, sopra la montagna occhio Occhio sopra Occhio sopra fra Uso la nuvoletta E' proprio qua sopra, è proprio qua in alto, attenzione, c'è un dovendi, io ho fatto a quello in alto Provo a fare un giro, li provo a flengare dall'altra parte Aiuto, no, nuvoletta Ti prego Provo a girare tutto dall'altra parte io ragazzi Aiuto, aiuto Qualcuno c'è un pochino di medikit E' un pochino di medikit E' un pochino di medikit Il mio infame che camper, guardalo che camperone, qua Si' ho buttato in safe Ah, questi qua sono il safe fatto l'ultimo e giuliano non ci rubare sempre tutte le chi dove è numerato che schifoso picconiamolo se l'ultimo ma sono in due aiuto occhio che qui in mezzo distrutto che ci stava la win nozza let's go ci voleva la win nozza 12 bombe 13 bombe buona allora c'era qualcun altro che mi aveva detto che voleva giocare non mi ricordo allora ragazzi c'era qualcun altro che voleva giocare chi c'era vitto tu ci sei fra vediamo che dicono i ragazzi in chat andiamo let's go per la prossima win nozza mi manca l'ultimo potenza come giuliano mi manca l'ultimo potenza e poi posso fare tipo il terzo il secondo l'ho già sbloccato vabbè i tempi quelli di dragon ball confermo giuseppe comunque si partitone sono d'accordissimo fra bella partita bella partita mi è piaciuta mi è piaciuta ci sono stati anche svariati res bella bella è stata bella ragione per cui probabilmente adesso stopto vegeta ma gg mattia assolutamente si ragazzi allora vediamo un attimino fatemi guardare un posto vegeta ricarica vi back fatemi vedere qua come funziona ragazzi andiamo qua facciamoci due ghiacchiere di qua nel frattempo aha no sbagliato arrivo ragazzi arrivo subito da voi eccomi qua ciao belli miei buonasera a tutti sono tornato ci sono solo fermati comunque se vuoi dare spazio a qualcun altro vai pure vai tranquillo fra serate abbonati stai scherzando nooo ma mentre volevo shoppare è partita la lobby raga ho sbagliato tutto vai vitto log che alla prossima allora ti invito dai alla prossima ti invito fra eh va bene va bene fra perfetto no problem allora tra un po' lui c'è alla prossima va bene rimettiamo la scelta di qua a questo punto non sono arrivato a shoppare vegeta raga lo shopperemo alla prossima lo shopperemo alla prossima che dobbiamo fare perché fisio non mi senti mi ha mutato non lo so non credo che ti abbia mutato allora dove andiamo ragazzi per un'altra vittoria andiamo un pochino qui vai croce via va bene andiamo a croce via mattia tra un po' va a letto va bene va bene va bene fra va bene va bene va bene qua ci divertiamo un po' ragazzi nel frattempo quanti avete ci accompagnato alla vittoria vorrei trasformare in volo però sopra la nuvoletta dovrebbe farmi trasformare dai eh no sopra la nuvoletta non ti fai trasformare allora qui c'è un negozio per comprare roba dove? mentre stavo guardando prima che c'era un gombone oh andiamo in diretti tipo vuoi prendere anche se vitto lo voglio prendere fra per collezione perché mi piace un sacco cioè obiettivamente poi in gioco magari non è bello però lo voglio prendere posso giocare mi accetti davide davide stasera gioco con gli abbonati gli abbonati al canale fra se sei un abbonato al canale puoi giocare con me questa sera chiaramente dovevi venire da me riservate ai non abbonati allora dov'è il distributore? eccolo onda energetica subito comprata pompa raro no ho comprato due nuvolette per sbaglio puoi darmela una a me? si ne lascio una qui guardate ragazzi la lascio qua a te la dai una a me? eh te prego prego prendete pure ragazzi e io per me c'è? eh ne ho lasciato una a terra qui c'è il distributore che le vende però e vende anche l'onda energetica credo io lo vedo allora vediamo un po' io già mi sento al top con queste con l'onda energetica e la nuvoletta mi sento al top si infatti vince esattamente guarda il top mix di quartiere tipo Nico Pandetta o Tom Holland oh guarda che bella questa cassa leggendaria ma che carina che carina allora perfetta così mi piace questa situazione I like it oh sta arrivando una una cosa della capsule core dove arriva? va molto lontano eh non ci arriverò un po' a prenderla mi so ma non c'è abbastanza soldi allora ragazzi qui si sparano dove? andiamo? a ping rosso si si io sto andando a versi ping rosso c'è noia non avere la nuvoletta siamo un po' distanti eh si dove sono tutti quanti? oh bello oh non li trovo vabbè nel frattempo ho lutto un po' qua sopra Nino vandertà Gassugi esattamente allora per ingravitazionare in uno spazio pinnacoli vuote totale c'è lo squaro ok da iozza bello oh paracadute sopra me due in volo qui ah forse io ora ho capito dove c'è un cerchio rosso mi sa che quella la taglia si penso di si penso di si me lo lascia a me quella bibita sì tanto a me non serve quello dovrebbe essere qui in zona non ho colpi però non ho scudi volevo dire eccolo l'ho visto oh eccolo qui mancuna hit è entrata ho preso il maialetto vado ok dove vado a mangiare dove è distrutto quello con la camera mia mia maia madonna che bella che è da utilizzare l'altra terra qua sotto deve essere un altro dietro al tronco occhio a io non ho letto se cavolo nella nuve della nuvoletta è vero che non servono le colonne ce l'avamo ce l'abbiamo già vero grazie vero sono energetica ne ha tre di utilizzi alla grande ciao bello scaldini cildini mi servirebbero non è vero che è vero che non servono le scaldini che sto dicendo ragazzi non c'avevo fatto caso c'è zero vittoria che noia come 0 1 di quella di prima non conta no guarda la coronata può essere siete le conto solo se vinci i consecutivi ok ma però però mi senti che sto pagando ma dove usa la nuvoletta e vada a seguire allora non vedo movimento in giro per ora vorremmo andare verso centro safe ragazzi per la giacomo ivan grazie dei like ragazzi ma siamo alterati uguali c'è bello normale che hanno messo ste nuvolette per spostarsi velocemente sicuramente stai io gioco poco e niente però ripresa ora con drago un po la rigiugare anche io non voglio tanto te lo compro paura te lo compra già me l'ha detto veramente veramente l'ha detto ormai non si può tirare indietro veramente bello che bello tutto contentissimo bellissimo ragazzi allora ma non c'è movimento in giro vorrei fare un pescino sì mi piace quella che è te è bella è bella giusto ora io dice papà dicevano diventi a coricare metti la carta i dici e me la compri e sì ma prima stava andando tipo dove c'è tipo che deve fare tipo arena dice l'esercito aspetta che questo però forse cittano quella cosa una nave a il delivago dove il delivago il delivago ma c'è il nostro amico tram delan con bolle qui qui non c'è nessuno non c'è nessuno 0 infatti qui dai e da un po che gente non viene e anche da tanto sì non in acqua qui qui a volte la gente viene tanto quando c'era tipo la stagione la stagione di di lo scammero però di oggi altra gente da me qua qui me l'ha lasciato anche a me una pillo c'è stato lo scammettino c'è stato 27 giorni nel suo compleanno e la scioppa è giusto è giusto sperando che ci sia fino a 27 tra più che altro non mi hai fatto ancora vedere le skin e ora dopo dove faccio vedere si avevo dimenticato cassa subito bel cecchino non vedo nessuno in giro voi vedete il movimento da qualche parte no a volte qui ci veniva gente quando c'era tipo la città di spiderman questa è ancora la città di spiderman nello ne hanno fatto la taglia a me qui uno mi hai sentito lasciate a me quelle che vieni raggiungi ci vieni con noi camminiamo combattere facciamo tutti insieme sulla nuvoletta certo che c'è certo che c'è vegeta io ora lo compriamo che già ho qua c'è un full team ragazzi che sta crossando occhio sono quando erano belli agguerriti ne abbiamo uno sotto a 1 1 qua distrutto 1 con la gama mea e dai se one shot ho fatto che di vita ho paura fosse un bot ma la dietro botta troppa vita questo lupo che mi sta rompendo proprio oh ma siete voi con la gama mea mi sono spaventato troppo ma ero io infatti c'è qualcosa pollo pollo c'è pollo che vorrei un'arma un assalto buono non c'è non trovo niente di io c'è quella che spara 38 38 48 e 2 oddio sono scappato una nuvoletta no sono messo male sono manciottissimo non mi prendete non mi prendete più più ragazzi mi avvicino e vado un attimo in bagno una bella in diretta da siena appena tornato ai festeggiamenti dal palio figo fra grandissimo buona sera e benvenuto in live macibu no macibu purtroppo non c'è purtroppo ma cimbo non c'è ragazzi sono due qua non mi andrò manco mezzo 3 3 poi tutto bianco oddio no 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 multi flanca multi flanca destra mannaggia sono messo male anche un attimo guarda qua sotto quell'altro situazione guarda quell'altro che rientra da lì sono due che rientrano dalla safe provo a depilarmi un attimo di qua se mi riesco a fare questo finita vanno a destra gli altri due c'è un sacchino che cosa sta succedendo ragazzi non ce la posso fare più non ce la faccio che ansia oddio c'è gente anche nell'erbalta qua sopra no 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 ci ho provato fino alla fine ma in lobby ma già si si vado alla lobby raggiungerà la grazie dei like ragazzi benvenuti in chat luigi grazie del follower benvenuto nella family ma tu c'è 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 posto rimango a un vittorio non sei on a piace il nuovo faccio ok perfetto vediamo un attimo la dove è vegeta andiamo a vedere vegeta eccolo eccolo allora ti stappi la ceres attenzione ceres c'è ceres c'è ceres c'è è bella è bella effettivamente molto bella no no per ora non non ne sento allora aspettate intanto faccio partire la partitozza qua ok ho messo pronto andiamo bella giuseppe antonio grazie dei like ragazzi benvenuti che bello che so hai visto l'alla questo qua il mattia il figlio di stefano allora aspettate un secondo perché c'è qualcosa che non mi torna qua e non mi piace questa situazione no non aspettate lo metto subito lo metto fino preciso all'ufficio c'è con noi c'è con noi bella costino grazie del follow bro sento eco adesso fra sì adesso sento eco non so come mai ma adesso lo sento allora via pronto ma già voi siete in partita no vero ah wow io sono alla lobby ancora non so perché ma che cazzo la giovanna grazie del like benvenuto in chat vai 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 vi aspettiamo in lobby no mi diamo buon anno a giocare con te vai vai t'aspetto va e beh per la serata fra per la serata si questa è la serata sostenitori fra bella rebecca grazie del like benvenuto in chat non sento matti ma forse ora appena inizia la partita vi sentito che ho messo pronto dovrebbe funzionare adesso in teoria ti posso dire una cosa a me dimmi dopo la partita mi regali io a papà glielo devi dire deve mettere la carta mi piace tanto ma sarà che nel gruppo c'è il canale del se no mi prendo anche l'amico di the jungle ball chi vegeta? si è bello vegeta certo certo tutti e due sono belli è bellissimo dai ora dopo metto la skin competenza sono pronto no perché non mi fa cioè lei questa c'è delle palline io vediamo quale a che cosa servono le palline? che un malemotte bellissima non so che skin usare voglio cambiarlo un po basta ma utilizzi il carlino quello barinziano mi dovevi fare vedere le skin eh guarda le sto vedendo ora in live se viene a guardare ti fa vedere guarda le scorre tutte bene o mai ma sono tantissime veramente sono veramente da se ne vedi qualcuna che ah no 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 aspettate io lo so che cosa utilizzerò questa partita nooo bellissimo si 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 assolutamente nooo non c'è il bastone di goku nooo peccato ora c'è il bastone di a vabbè dai ci può stare avanti ma c'è Spider-Man con il bastone ho visto le skin madonna ma è troppo strano ma è bruttissimo non ci sta completamente con il bastone però è troppo magra questa skin è snellissima è troppo bella madonna mia è vero è vero è vero è vero è vero andiamo per le agguerriti con Spider-Man bello anche Batman dove è Spider-Man? io odio gli eroi della DC ho tipo una repulsione sto ballando con Vilo mi stai vedendo che sto ballando con Vilo ballo con voi dai ma che ballo hai fatto? dove andiamo? ero il loser lo sento andiamo 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 allora andiamo qui andiamo qui andiamo andiamo le mie pig? lo c'è via dove si? lo c'è via mi piace parecchio sono buttato col bastone di Goku sulla schiena Spider-Man andiamo è una combo non c'è posto strano ragazzi io c'è una cosa stranissima cosa? che specifica sono le stessi colori? quando scendo il tipo dei bus mi dà una vita 15 vita cosa? non ho sentito quanti io non ho sentito quando scendo dai bus mi dà una vita e 15 di vita e poi si sistema? si ma va bello e niente ci fa dai ma comunque forse dovrebbe essere il lag è bollata perché forse sta lagando devi dire a papà che ti regala la skin e la connessione e la connessione bella quello si pisce alle risate in live io non ci credo che papà non mi regala da un po' ma ci credo ce l'ho pochissime la prendo la taglia? quanto così sono il po' mi sono arrivato arrivo ma quella l'ha la schina quella me io voglio che sta uno lo è stato un po' ma d'ho ma troppo lì uno starm dietro sta l'occhio c'è un dizio one shot ma l'ho lasciato una me fatto? ne voglio uno io di chi l'altro e da via ma io mattia non lo sento attimo della partita dico lui eccolo la voglio quella scudato uno lì dietro sto albero si va dai a vede poi ammolizioni per venire gioco tutto no la lascia a me lo metto a tutta l'anafrica te ne metto un altro one shot lì dietro lo lascio questo ha detto lasciato una grande energia questo te lo fai tu è one shot quello te lo fai tu noi gli sparo grazie mi rifaccio io se non va a smetterci noi del canno a quell'azzurro non gli sparo più fatto al frattempo frati ho pingato una camera che ho comprato di seru bella amicale alla giovanna grazie mille del like e benvenuto in cia a me qualcuno vuole una bozzetta via destavo sotto il punto sotto il punto la città la città la città la città la città guai 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 c'è anche la la capsula li è perfetto la città la capsula con ripeto colpi per c'è chi non ne avete giusto mi lasciate prima ne avevo pingati il fiume di riprendere non ho visto io sopra sinistra collina l'altro fonte che cosa ragazzi come i conigli in mezzo ci spugno matti matti mattino grazie grazie povero povera vita rubato i colpi sono tutti in mezzo ci spavano abbiamo io ho detto one shot sopra andando a flangare dall'altro lato e devo sentire scappata la mettonazione brutta verso no 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 vabbè io l'ho lasciato mi ha detto da scudetti aiuto chi è che l'ha fatto l'avversario poi direi che da me c'è gente io non trovo proprio zero ma dove sono questi è qua fra c'è ma non ce n'erano in mezzo a sti cespugli e fra l'ho dato scudo arrivo è un attaccato fra il bianco bianco sono una motosega di acqua ecco il ci descrizione vov mortgage vov Ja stop i listare nel qu Linee cuore sicuro guardo che c'è spuglio ma donna voglio no 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 di�� perchè le ha celle che os antonado godo chiudevi davanti abbiamo la richiesta io prendi la scheda per favore è tornato giù il pirra il piccolo teruncello e posso io il coso blu me lo prendi? cosa? lo vorrei tanto io andiamo al furgone ragazzi nel qualssotta è il furgone volevo tipo il coso che è quello che fa il fulmine ah la cammina ah la cammina non ce l'ho non l'ho presa si ce l'ho non ce l'ho ma mi sparano va dove? ah da fiume si sono coperto ora vado a uccidere io distrutto oh yeah vado io oddio no 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 meglio di no meglio di no mattice vieni qua vedo la cammina allora prendiamo qui pesce pesce c'è un altro oddio no l'ho lì non lo so manco io ma io so metto il coso blu chi me l'avevo fatto beh fatto e non c'è nient'altro rende sopra acqua perché ho capito proprio 30 a blu io ho fatto non lo vedo non ho scelto terra non mi prendi che temporale me l'hanno rompere cosa la kamehameha no no noi devi dire a tua parte può fare un tutorial di dragon ball non fa bene questa cosa no no temporale non vuoi esistere che la gombola è più forte degli altri ma che vieni qua uno da me è la prima schiena che è uscita all'obbitorio e io vorrei anche mattia io sono poche distrutto un altro fatto ma non un altro tizio da mamma che posso tutti i dati aiutati sì assolutamente ragazzi vi prego e si arriva con la pistola che non che la pista letta è più forte sì ma se scendiamo in set ci sono anche ragazzo io mi servono dell'erono lucio io non ho un look decente cioè sono tutto fatto a caso perché corro e basta non mi ammollutare sono tutte armi a figurati mi serve una mitraglietta vorrei che vuoi chiedere un medico non sono sprovvisto non posso aiutarti e no no posso tranquillo ora mi serve solo una mitraglietta trovo quella sono felice se spider man manda l'onda energetica gogo magna le manda le ragnatele si non fa una piega puoi provare se lui con la forza di dragon ball funziona cosa cosa puoi provare con la forza di dragon ball è quello che dica di capelli se a spider man funziona no 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 non funziona è soltanto di di gogo quella ti faccio lo che c'è tutto fermo questa è un attimo per gli atti qua vi devo dire ciò quanta che più fatte a faccio la mitragliatura non mi posso dire una cosa non c'è la corta 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 una ha me ha me ho la cannuccia una ha me ha me ho la cannuccia ma c'è un altro ci sono due ragazzi è ora della camera me ha aiuto tutta storia che ci sono cosa credo che questo aveva la skin di vanda bellissimo arrivo fra ti vengo a salvare gli stand no ragazzi ha visto una cosa impressionante ma eravamo dall'altra parte partono e sto buscendo un altro team ragazzi scusate ho capito un cazzo completamente totalmente dell'altra parte voglio avere poverato un po ne sto attento fa la sonnabita li puoi fare però hanno la camera ha me ha me ha me ha me ha ci vai vicino non dico che cazzo ma non l'ho visto manco da dove era ma era dentro il cespuglio aspettato puntato la farmi la camera ma ragazzi questo esatto schifo per simulator fra l'ho detto non si può vedere spadermi sulla ruola è vero dirò devi finire bottare ma proprio doveva vermi che lo decido io il matchmaking capite il garello ogni tanto possono stare tutti botte le avremmo vinte tutte tutte quante stasera ma ben vengono il bot ben vengono che è successo mi ha stammato di botte del lobby o se c'è qualcun altro che si vuole unire faccia pure ragazzi nel momento è fatto pronto la schede di gerardo ball c'è la miseria guarda quello la era dentro il cespuglio campionato di gerardo ball allora allora al tempo cambio skin nel mio porto il cazzo già proprio cioè non cambio skin in realtà il sistema la skin non sono arrivato a sistemare prima mettiamo la pala visione spiderman è bellissima ci sta visione vediamo dove eccola eccola bellissima via andata vai let's go partiamo io sono messo pronto metti pronto sì sì ci ho messo pronto arrivo arrivo alla jogger che mi hanno aiutato forse metto spiderman normale c'è rosso sì ma ti dirò così puoi mettere quello che brilla tipo quello blu azzurro puoi mettere tipo spiderman azzurro che è bello non ce l'ho non ce l'ho forse ho quello vecchio quello la del minchia bello anche sto spiderman mi fai vedere tutti i stili eh tipo quello lì è un altro quello che è miles morales ma ce l'hai? no quello non ce l'ho che c'è questo qua che ho messo io ah solo questo oh bello mi annoio tanto perché voglio non ce l'ho per esempio da nero non so manco come si prende ma forse della nella criosa lo fa cagare si sparano skin che per avender è meglio non farle veramente a me vegeta vegeta ne ha deluso troppo 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 fasi che ne dite anche bolle io avevo mai fatto per questo grande impressionante giurio hai sentito voglio io però ora la prendo la prendo per forza devi collezionare ci sta bella allora io ancora però non l'ho mai visto in gioco a quei capelli occupano il 99 per cento del campo visivo ma penso che come il suo messaggio sì però di più c'è più lunghe ok fai la cagocciola fai la cagocciola che vediamo allora andiamo non lo so andiamo a pinnacoli e ora ora non so che cosa sta succedendo perché ogni volta che scendo dai bus è una vita vabbè magari lagga lagga niente si sistema tanto avanti si sistema ma ma se si mette sempre quello se lagga c'è un team sai 22 davanti a me vediamo che succede c'è anche medikit ok facce la pompa non è fucile a posta c'è uno dove si dove di occhio che c'è la prova a saltare arrivo no si è sgonfiata l'esattore non vengo proprio da saltare la donna ma tutti cosa stiamo andando ma perché non ce l'ho solo io quando lo voglio troppo l'avevo preso in pieno perché è morto no ma che vuole recuperare allora aspetta del carico ma dove sparano sono la dove mi hanno un piano e ucciso a terra arriva uno da me mi sa che moriamo otto questo bellissimo bravissimo ma ci vuole essere qualcun altro però forse sì sì mi sa che sono davanti a me aspetta vado a recuperare una scheda occhio che non ha preso sopra il portatile quella l'avevo preso dai one shot fra la mano oddio arrivo arrivo e dentro sopra sopra un attimo una bozza 50 se c'è peperocino prendete peperocino ma relativamente frasi sarà pozzato in arrivo rampinista rivolio ripresa la scheda penso di sì ecco sopra il rampino e qui acqua dentro ok si sopra penso io sono sul tetto adesso arrivati in zona possiamo provare a chiuderlo aspetta vediamo se lo riesco a fare uscire a stare sano se io io sono io provo a farlo uscire ma ho pare che non esce va bene non pare qua sotto di me è qua sotto di me è qua sotto di me la puscia non chiudiamo vabbè fatto vabbè la nostra cacchino andiamo a dire butto la scuola si si andiamo a dire butto la scuola si si andiamo a dire butto la scuola ma che scuola mi senti? mi senti? ok perfetto andata andando? mi senti? mi senti? eh ti senti? mi senti? bello mi senti? mi senti? è un impatto allora mi senti? mi senti? ti servirebbe qualche bella mozza cosa di migliore però non c'è proprio un cazzo ti dirò non ho niente non ho niente veramente mi sento un dmr se vuoi vabbè ma la R ce l'ho, più che altro mi servirebbe una mitragietta è un dmr o un bar che si trova in giro dai davanti mi sento la cassa dietro ti sto parlando ma non mi parli non ho capito cosa stavi dicendo allora qua c'è un rambino se serve a qualcuno quale tipo io lo voglio io per favore me lo puoi prendere non lo tocca nessuno se mi prende come la nuvoletta di dragon ball di piccio allora non c'è la cassa qua ormai tipo sono standard in tutte le partite tipo da avere per forza la nuvoletta energetica c'è tipo una cosa che non puoi non avere si prendono taglie cosi almeno ci diamo del content va bene alla tagliozza allora vediamo dove 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 cazzo che fa le regia ancora non ce l'ha data ancora non l'ha trovata vero vero c'è un cazzo devo dire ti devo dire chi sta seguendo autobus dove si lo sento di nuovo arrivo ragazzi si 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 qua davanti a me la macchina arriva ragazzi 121 sono un po' lontano non so se sono sceso ma non mi sento nessuno qui ma ancora sta tagliando una cagata eh ma devo parlare la tazza voce la macchina letteralmente è scomparsa non vedo movimenti in giro però ora come ora no ti sento ma non vedo nessuno in giro vabbè torno a prendere un po di altezza poi vediamo che succede si aveva una domenica spostiamo sto pronti ora saleggi non vediamo la grazia la viola ho trovato il video qua dopo ecco la taglia per il sito la mia tele ti posso fare uno scherzetto fai pure fai pure fai pure allora dove andiamo oh ma questo non si sta curando qua no ma poi si sta ah eravato con i suoi otto forse devi stare fermo se ti non fai gli scherzetti vai sto fermo official man il medica te la ti tieni prima l'ho preso per sbaglio comunque a te giova per adesso no mi serve non mi serve eh stai che non so un 13% là ma cos'è quella cosa fra ma cos'è è presa in pieno la macchina ma cosa la renditura ah è la fenditura portatile quella cosa la che fa cadere tipo le cose dal cielo più o meno io eh sì sì quella che ho io ah ah la che ho io fa scherzetti io sono le tue armi qualcuno c'è delle armi che io stavo vedendo qualcosa che tipo stava cadendo ancora dal cielo tipo come fuoco ma che è scaduto mai quella cosa le è accaduto tipo un ma un lupo forse sai infatti io sto guardando quello faccio un lupo che guarda qualcuno ma è scaduto tipo un meteorite davanti a me ah era una capsula della capsula corp ok ah ok ah è ridendo che si trovano la gente qui la nuvola ah ok la più in grosso arrivo sì andiamo andiamo ah ok però stiamo belli scarpagliati ragazzi arrivo le ragioniamo subito no bello questo arma l'arma ok non starà un po' più niente ti posso dire ancora ti posso dire una cosa bella io c'è il pupazzo dell'arma bello il pupazzo dell'arma arrivo subito ai 10 secondi e sono da voi anche meno ma aspetta che forse ho un travedo no l'ho lasciato per pochissimo sono cecchino andiamo ma non ci chiediamo qua c'è un team ecco dietro ecco dietro ho visto provo a prenderlo da sopra la torretta vediamo se riesco a arrivarci si dovrei dovrei ci sono secondo me stanno facendo il giro comunque ecco ecco qua cento venti scudato uno vabbè sto avvenendo la riva bravissimo 67 c'è un altro uscita ok ho fermato no ho preso un sacco di danno mannaggia a me ho c'è un passotto ti vengono ti vengono ad aiutare andiamo mi sparano a tutti la sono poverino ti vengono ad aiutare va eh mi conferma qua ragazzi ma come cazzo fa ma che là no vabbè questo è un cazzo di c'è uscito dalla macchina senza fare nessun animale ma sono trovato avanti è vero no vabbè ma io ho parole ma che culo vai matti sei tutti noi porta c'è la vittoria davanti a te davanti a te davanti a te sinistra non dibuttare con ballone sono siamo 8 dai e di però si allora ma la facciamo una vittoria ragazzi non vorrei fare la vorrei fare rarely volete andare non lo so se ci siete ancora io ho messo pronto sempre pronto vamo ma quanto dove ho messo quella dell'albe ma in sta modalità comunque la gente ragazzi campera come se non ci fosse un domani ma assurdo non ho sentito fisca niente posto ma non credo che se ti hanno mutato non lo so ma guarda io mattia non lo sento da inizio partita lo dico sinceramente lo sento ma bassissimo ragazzi non so che dirvi non ce la faccio più che grazie mille francesco grazie mille fra grazie mille produce il numero uno ragazzuoli in chat dai fatemi sentire un po' che sennò qua mi addormento altro è 5 di mattina qua che è 5 di mattina ma qua non va ragazzi porco giudo è da 3 ore che va perché non la trova mannaggia la miseria la troverà mai speriamo liscio con lo sniper questo allora olè ma perché non va niente ragazzi boh non so che dirvi non va non la trova boh vado alla lobby a sto punto non so che dirvi non la trova ragazzi non lo so perché non va non lo so perché non va boh eh aspetta che ero l'audio di gioco me l'ero messo sbagliato eccomi scusate sono tornato alla lobby ragazzi non lo so non la trovavo ah si 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 sto prendendo anche io gli lobby non so vediamo voglio cambiare un pochino allora intanto metto pronto ok io non metto un'altra schiena ma dai bellissime queste moto che si sbloccano con le missioni sono troppo belle e se le moto dell'aura bellissima quella del mini pass di traduzione se si sceglie non è bellissimo davvero ma che cosa devo fare per averlo devi completare tutte le sfere con le missioni in completare le missioni distrugge oggetti con un mondo energetico e guarda dragon ball super nel festival degli episodi dragon ball ma c'è un episodio di dragon ball c'erano quattro episodi veramente te lo giuro io ho visto uno per adesso ma secondo me se li faccio vedere in live proprio mi sparano ma se si io penso proprio che il copyright te lo ti tagliano in me hai visto la mia skin è bella? si l'ho vista è tipo un pupazzo di neve allora dai cambio colore a posto di cambiare skin e lascio la stessa skin ma non sono arrivato a cambiare colore e dovresti togliere la sigla iniziale 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 poi per resto puoi mettere colore ma non lo so frasi è solo la sigla iniziale il problema io penso che sia tutto un problema cioè la non è copyright soltanto di audio anche video penso ma allora non lo so allora non credo che sia una buona idea non credo non lo so se vale la pena rischiare non male ci sei in live? con l'universo 7 se non ricordo male con i cani comunque quando ci sei in live? eh di mattina al solito come sempre a volte e io di mattina non ci sono di pranzo? ma allora certo si perchè devi fare il pranzo va bene va bene va bene a canyon di solito dopo pranzo giochi alle ore di più di sera gioco a fortnite di solito dopo pranzo giochi a calociuti? no no neanche non ci gioco da tanto a calociuti andiamo va super gecko bella simone tutta a posto bello che mi racconti ecco si bicchiata devo mettermi al più presto la maschera ma è per perchè qua spiderman con moland non può stare così è indifesso senza la maschera andiamo oh bella cassa no aia gg 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 vorrei parlare ma non si investeci nessuno qua c'è c'è una pozzetta se vi serve una pozzetta oh no buona p ma l'alentrano da voi ora vengono da voi gente? bocciola? si si vai 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 se lo se la finisce ho un in volo ho un in volo vabbè quello lo voglio io va ho l'arma super gecko uno destra uno destra ah ma un altro questo è stato la stirata e perdonami ho comprato onde energetiche non vuole andiamo allora perfetto mi puoi dare una lungoletta? comprare le compre qua c'è il negozietto allora vai così ma dice che non c'è abbastanza soldi ma dice che non c'è abbastanza soldi iniziamo costui con lo stagio con lo stagio sono 4,5,3 i soldi che cazzo non è successo? si è buggata la nuvola ora sei in alto buonasera caro giuseppe grazie del like e benvenuto in chat come stai? tutto a posto? ah ma non avevano nulla poverino oh si ho preso la nuvola viva non c'è stato anche un cheso un cheso di nada qua c'è uno guarda da ucciderlo io no let's do vengo 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 in tuo supporto ma non vedo nessuno altro a volte di sera a che cosa giochi? eh gira eh gira allora oh niente non vedo movimento sto pronto ad allontanarmi un po' una cassa vediamo un po' che si trova di interessante nella cassa usiamo la nuvola insieme e partiamo insieme aspetta qui eh non c'erò la nuvola per ora c'è una mozza cinquanta se ti serve no come? prima ce l'avevi credo servono credo servono un mattia comunque eh l'ho tirato vedete pure ok mi devo distruggere mi devo distruggere dei delle strutture con la camera per fare una missione ricordarmi se vabbè queste si fanno ora piano piano da sole io mi sei a quel giocare per fare le quest non sapete no 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 madonna oh che mi ha dato di bella oh che mi ha dato di bella minchia minghie allora vai così eh ma non ho sempre una mitraglietta c'ho un lutto pessimo continuamente un lutto pessimo sì allora mi piacerebbe trovare qualcuno in giro ti voglio fare un altro scherzetto sì sì uno da fai da ora niente non c'è movimento dai che io ti voglio fare anche lo scherzetto vai vai puoi fare una macchina sennò io eh allora vai recupera la vita azionale tanto però ne ho due mi sento spari tipo verso sinistra più o meno credo credo di averli sentiti per sì sarò sbagliato ah no è il Fisherman con i due possi oh un lama ehi più bellino che sei ciao lama lama oschi ora proviamo questa combinazione totalmente random qua la vita azionale va bene vuoi qualche cura? eh lì ce ne sono, no, io non a me non servono c'è tipo cosa credi? ma a me non serve se serve a te prendi pure allora io salgo su vediamo se riesco a vedere qualcuno non riesco a dargli ste pozzette a mattia prenditi le pozzette ci sono un sacco di scudi in giro prenditele stanno tante ragazze non li vedo non ce la faccio stanno lanciando e sono pingate questo è un po più alto della mappa ok all'auto scelto ok sono nel centro più alto della mappa c'è tipo qualcosa da temporale di dragon ball sembra come a me così può succedere subito a tutti ma c'era nel cosa c'era nel nel distributore quello dove c'era la nuvoletta speedy sì ma non c'avevo ora abbastanza soldi quali che avevo tipo una ora capito ho capito si si gente li ha visto si lontanissimo e vegeta è la prima volta che non troverete oh mio dio mi distrugge mi distrugge grazie madonna mi sa non devo prendere prima questo assalto che è un rinculo clamoroso questo è solito non riesco a tenerlo fermo non c'ho pure poi tra l'altro non ho trovato vuoi un pochino di splash no 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 anzi si splash si si ce l'ho aspetta cioè cosa grande no no vabbè quello grande se serve solo a me non lo spregato lui c'è la cura bomba no quello legge è già fatto ma sto fucire assalto ah l'hai preso toccato ah bello quello lì se me ne hai un altro colpetto lo accetto ok ragazzi trovate la macchina perché siamo lì tra un minuto ci sta la safe ancora iniziamo a correre let's go per caso ecco il cinghiale solo una persona può andarci è vero dimagina 22 tipo 35 sarebbe veramente comodo ora dietro da dietro arrivo arrivo occhio che c'abbiamo anche la safe c'è un altro lama acqua della zipline si pensi che non c'è la rita a madonna sono messo malissimo ragazzi fatto quello sopra l'hai fatto che roba sua c'è una roba da rebuttare e sotto di me tipo si 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 sono io sono io Dov'è trovare la macchina comunque il più presto Io ho bisogno di cure Ah ma in cio, c'è la safe Ma vi sparo, vi sparo Ma non ci credo Ma non è possibile Mi posso aiutare con la faccia di Dragon Ball? Eh? Occhio, però perché nella finestra qua sopra? Sì, lo vedo, lo vedo Dov'è? Matti puoi venire per favore a restarmi? Anche io Sperando che non mi spari Ok vai vai, fai il reboot Facciamo il reboot Tutti insieme, tutti insieme Lo facciamo subito Bravissimi Bravissimi ragazzi Andiamo verso safe Subito safe ragazzi Che non mi fa usare la nuova sfidi Mi dice non è ancora pronto quando è realmente pronto Che me la fa usare più? La rugoletta? Ah ah Facciano in volo sopra di noi E forse è il tizio di prima E forse è proprio il tizio di prima sai Vai vieni lupo Vieni mannaggia a te Mannaggia a mi farei perdere vent'anni Fra io sono in zona fisica Oh scusami fra Scusami Arrivo Arrivo Dove sei? Venite da me che io sono vicino alla safe Sì sì stiamo arrivando Se ne ha in più di questo spray Vabbè come lo spruzzi magari Sì 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 Vabbè come lo spruzzi magari Sì 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 Già tipo qui Vedete un attimo Guardate c'è una cosa Tu cazzo stai Tipo che qualcuno si spruzzi Eh sa Sì c'è 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 c' ho visto qualcuno con la nuvoletta qualcuno con la nuvoletta eccolo in acqua lì virus me lo lasci? eh se riesci a prenderlo con piacere ma dove c'è gente da me ragazzi? la mia mia occhio 180 quello che la mia mia ha fatto 180 con la nuvoletta muori minchia minchia e mori che spider mannello è senza vita stavo a te ma che cavolo va fendo vendi è quello che ti uccide fish oh cazzo ora però eh 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 fratello mio ora hai preso le botte quelle serie però eh eh te l'avevo detto io aspetta che ora gli tiro un'altra bella onda energetica di quella serie si sta affondendo mattia spaziale del genio è sotto di mattia mi potevo girare no no mattino no no mattino al contrario riperozzi riperozzi ci prova fino alla fine bello ci sta no no peccato peccato bella che si in amore e benvenuta e grazie dell'aic vieni a giocare vieni a giocare eh vieni a giocare eh allora vado alla lobby che invito anche Cristina nel frattempo va andiamo avanti si nel frattempo mi vado a prendere un'altra ok ok un altro birroccio arrivo dai raga ti faccio un gruppo adesso lasciamo uno spazio a Cristina Matti va bene? esco io esco io no va bene dai tranquillo eh non ti preoccupare Fisch ciao Matti ciao Matti ciao Matti no vai tranquillo cioè Fisch se vuoi restare se ancora non devi staccare puoi restare tranquillamente Matti è giusto perché il Stefano mi aveva scritto che doveva staccare capito allora è invitato Cristina ampio la schinnozza mettiamo Goku allora buonanotte Mattia scusami allora eccolo qua Goku ah posso metterlo direttamente mui equipaggiato bello ottimo vai rifacciamo tutto il setup col bastone e tutto che importante quello se riuscissi a ritrovarlo sarebbe importante eccolo 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 anche sulla schiena lo mettiamo il bastone non può mancare ragazzi lo sapete già eccolo qua via ok ci sono ma ci sei mi senti? si si ciao ragazzi buonasera benvenuta allora allora è troppo bella la sfera Gekitama però dovrebbero metterla sei tipo a posto dell'onda energetica ma tu ti immagini e bellezza allora cambio un po' skin è che non so che usare l'ho appena messo con lo so vedi quando ne hai troppe poi non sai che cavolo utilizzare bella per Mauri ciao ciao allora metterò questo skin con lo zainettino con lo zainettino valenziaga e come piccone di eleganza mettiamo questo via questa partita me la faccio amici può darsi e come faccio a far sentirlo? devi mandargli la richiesta no io lo sento è bassissima ma la sento ti sente piano? ah non lo so ma forse la senti dall'eco di vittorio può essere no faccio l'eco di nuovo probabile mi ha inviato la richiesta ma voi siete entrati in partita perché a me non l'ha fatta entrare? no lo so senti giusto ok ok ciao andiamo a vorrei fare un'altra vittoria stasera che una ce la siamo portata a casa raga allora vi guardo appena spunta ma perchè non sei con noi? ma che dici quittiamo? non mi hai fatto entrare si quittiamo certo se non siamo insieme si si quittiamo dai eh allora allora attenzione aia che è successo? che è successo? il madonna mia ma ahahahah ahahah 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 te la dico prima la prossima te la faccio bippare prima ahahah ahahah il bippo è bruttissimo aia bippo 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 ahahah ahahah allora aspetta un attimo ma mi sono fatto malissimo fra veramente no ti credo ti credo voglio mettere una skin gigante tipo bruttissima che non userei mai per nulla almeno va bene va bene utilizziamo tutte skin stupide siamo skin orribili vi prego skin orribili se abbiamo tutta una bananita almeno facciamo una squadra di bananite vi prego ok non ce l'hai fish? no allora ci vuole quattro Don Torsolone ce l'hai? però non è Don Torsolone forse è quello della apple tipo no io non ce l'ho Don Torsolone oppure oh bella questa qua c'è o mi ascolo oppure no vabbè io ce l'ho c'è Giuliano pure quindi che dobbiamo mettere va bene niente skin casuali io ne metto un metto bella donna con la faccia gigante no no aspetta come si chiamava quello la che c'aveva il llama come si chiamava quello la? eh Ghid up Ghid up come si chiamava di mettere Ghid up Ghid up si mi pare che ce l'ho Ghid up madonna fra me la cosa va bene no no Ghid up io a questo livello non ci arrivo no forse non ce l'ho sai Ghid up non ce l'ho no non ce l'ho mi sa se no no i perotti ma pure mi sembra che ce l'avevo dai uso un po' Travis dai 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 uso un po' Travis con lo zainetto balenziaga no no senza no anzi gli metto il suo perfetto via ma ora hai comprato Bill bellissimo ma l'ha regalato Giuliano certo ce l'ho pure io Bill bellissimo l'alieno lo mettiamo vuoi che metto l'alieno Michael dai lo metto io non ce l'ho e mettiamolo Bill l'umano e mettiamolo che è uno spettacolo di skin è bellissimo con lo zainetto balenziaga lo metto dai andiamo beh eccolo qua equipaggiato ci siamo eccolo qua signori Bill l'umano Buonasera Antonino come andiamo vorrei giocare Mattia questa serata è riservata agli abbonati se sei abbonato al mio canale puoi giocare senza problemi oh ma la troverà mai trovata trovata o mai con l'operativo eh durante la serata mai con lo sempre operativo top di gamma ok ok eccoci senti suona voli 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 questo è bellissimo il leader ah ma io lo potevo mettere io c'ho lui io lo potevo mettere io c'ho lui io lo potevo mettere io c'ho lui c'ha tipo tutto quanto grigio tutto grigio si è lo stile bellissimo bellissimo il leader della squadra delle coccole se no metto dopo l'orso rosa bellissimo quello è fantastico oh ragazzi in chat fatemi sentire un po' che qua dormiamo se no questa sera mi addormento io ve lo dico andiamo bellissimo bellissimo l'ultimo luogo vogliamo mauridici da lei oggi oggi voglio oggi ci erano ma non ci sono stato ancora all'armonia languido dove mandiamoci laguna languida languida laguna come era quel posto in cui andava a monci buttano ogni volta sabbia sudate no no ma non è una cosa che sborda bruciere brumose commercio perché è bellissimo bella queen grazie mille dell'aica pervenuto in ciascuno e brugliere brumotti e brugliere brumotti era di qualità di qualità veramente brugliere fa bellissimo per la parte di mappare una voglia ma lo posso sparare col cannone che c'è qua ma cosa fa staganna non lo so prova spararci io volevo far dover gente da me mi hanno tirato delle granite al cioccolato e stacchio e mandorle io aspetti aspetti doc non lo so non li vedo unexpected acqua sotto scudato scammato pesantemente allora qua c'è un bibitozzo arrivo che fatemi dire no non si è mai sento poco ragazzi ma strano mi sento poco forse perché parlavo piano non credo dovrei sentirmi bene strano non lo vuoi questo dmr ma come ci salgo la sopra madonna mia mi sparano se lo vuoi io lo accetto io non ho io c'ho un augurio l'ho trovato questa partita non sparando a te figa si più o meno è capito da dove le 40 uno vicino a me 340 qua è qua dentro come il merda guarda questo in acqua un altro è qui credo ce ne sia un altro quello è un bot madonna questo c'è il pompa purple ma così ho un'altra cassa legend ho trovato che culo madonna barretto oro wow wow ragazzi qui tante da quella barca o no 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 i salta eh sì fra perché era il volume cioè volume della chat un po alto Ok, oh c'è gente da me Fingate, fingate ragazzi Da me, da me, proprio esattamente qua Hai il bot questo, ok No, 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 no Ah, c'è il bot che rompe Ok, ho preso il lupo Si, si, ero aiutato per sbaglio Il lupo si infabula Si stanno fracassando qua Sento la guerra Bersaglio intercettato, mi hanno ucciso prima Ma dove stanno sparando ragazzi, io non capisco Oh, ma è il bot No, 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 sto continuando a fare Sto finendo il bot Eh, è scudato quell'altro in acqua Ah, ma ti puoi sparare col cannone Sì, buone Ma bellissimo Sta accadendo un airdrop da quella parte Le montagne Devi fare la skill di Santo Coppola Va bene, la faremo, la faremo La vittoria alla Santo Coppola facciamo Allora, già la faccio sto nomore Mi fa ridere troppo Ma l'Elario, grazie mille De la like È bellissimo Top nome Santo Coppola Che persona d'onore Un bravo uomo Oh, ho gente qua Madonna mia Ho fatto una Ho ne ucciso uno E un altro Ho scudato Collateral Pulito Mi ha fatto la clippare Ci stavo davanti Proprio qui Infatti Ci stava arrivando Piano piano Una divina Sì, ma io voglio Fight Voglio sparare E venite qua ragazzi Ce ne sono tre Stanno anche Adessandro Come sa Essere a sotto Ma mi sparo Dalla giungla Mi sparo Pino ad acqua Hai ancora Gento Tu ridendo Sì, ho sempre due 198 a 1 Fatto a terra Scudato bianco Fatto C'è l'ultimo Che si è restato Sicuro Infame Sono tutti In mezzo Star Alta Qua ragazzi Sparano Dai sotto Sì, da qui Sì, da qui Sì, da qui Non c'è lui 48 48 Perfetto Ce n'è un altro Madonna E basta Mandateci un secondo Di stop Di tregua Di calma Dovebbe essere un altro Sì, perché non è scoppiato Quest'altro infame Qua Non so se lascia il bar Ce la prende il bar Io Io ce l'ho il bar Lo porto sempre Bomba di precisione Ma che gioca questo Meglio di GTA Viva Santa Coppa Eh bra Questo qua Fra è Fortnite Fortnite Eh non c'entra nulla Con GTA Fra è un altro Tipologia Totalmente Di gioco Dai Pozzo 5 Vai Avete col Cecchino Che non usate Eh Forse si No no Ligno 7 Per farti capire C'è il bar Va bene Allora vorrei questo Cinghialozzo Adesso Primo colpo Ho fatto volare Questo po' Quando io aspetta Ne sono altri Oh la quando scappano E qua Fam No no Non lo uccidere Non lo uccidere Mi serve Mangiare Ripoce Mi salata Ma appiano ragazzi Questo è pieno di cinghiali Possiamo fare una bella Grigliata di quella Competitiva Prende qua Opla Dillo 240 No ci ho provato Ma è entrato questo Ma è dietro l'albero Sì È lì a mare In acqua sì 132 Scoop Ah questo qua Trofessi Si è disintegrato Poveretto Madonna Sparano 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 Sempre da lì davanti Sempre da là Però non Però non da lì Credo più da destra D'acqua Dall'acqua Ok Vado avvicinare Vai No Poi il pallone Maledetto E' esattando io Ho pingato Che lo stia salendo Eccolo si Fatto? Vabbè ve lo fate tranquillo Una ballerina C'è un altro No c'è un altro No 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 C'è un altro Fatto? Che sarebbe proprio quello lì che L'aveva provato O è solo La safe La safe La safe Cazzo Via let's go Dritti dritti in safe Come? C'era un corpo Gli ho sparato ed esploso Non pensavo Troppano troppe cose i corpi Sono bellissimi Vai corri Io mi sono preso All'onda energetica E' la nuvoletta Comunque Ottimo Ma ce ne sono troppe Tipo qua Sì ma se ne trovano un sacco In giro E stiamo belli coperti Allora E' veramente troppo Pista Sì è troppo forte Esagerata Io penso che la Cioè a breve la nerfano Perché è esagerata Sì sì Lo penso anch'io Perché è vero Perché se ti agra Se ti è stato Non puoi fare niente Cioè Oh sinistra Madonna 132 Ah hai fatto quello spacchioso E mi sparava Vero Poi ti sei preso Una manata Volante E hai finito no? Anche quello Ora quello si è cagato addosso Se ne sta scappando Si è ucciso? C'è un altro dietro C'è una con la macchina Sopra 123 Fra è esploso tipo quello di prima Credi Mi fa E lo giuro Piacendo un colpo di pombo in faccia Un altro Sì 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 che è volato con la Ah l'ho visto Sì Io ho capito Ecco lì Pronto per la sua faccia Sono in tre C'è una macchina Sì Sono in tre E la macchina Mi stanno scassando Che io ho preso un ginghiale Per l'ho Ma ragazzi Non tornate Sì sì Ho preso un ginghiale A posto Li voglio aspettare un po' Ma un ginghiale In caso opposto Sì 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 Però anche perché ci stava Sei C'è un Ma che stupidi Che si fai danno dentro La sei forte Che stupidi Sparano Kamehameha senza capire niente Ma ancora un altro in sei Guarda come sparano Kamehameha tipo là sotto senza un motivo Sì esatto Mi vorrei aspettare Ma queste fenditure ci danno qualcosa? Ti fanno fare Ti fanno ristare Ah no le fenditure sono quelle che fanno cadere tipo le macchine C'è un negozio Tipo lo bucchino Distruttitura Rottami Sì 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 esatto Vabbè Di fanno volare Mi devo dire Esatto 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 Genpaia Riposo in pace Piccola Angela Piccola Angela Grazie Troppi per cecchino Ne ho due Io ne ho 32 Anche 4 mi fanno bene Anche 5 mi fanno bene Vabbè Lasciate un paio qua Top Grazie Un volo Top Una moletta speedy Qui Anche Ma no male che Ci sei tu che Ping In bar Settato un po O c'è un altro Ha il bot No vabbè Si va a merda Dov'è finito Entrato 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 E' salito Su Minchia E' salito E' salito Dai qua dietro Capuccetto rosso Aveva Fatto Minchia 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 Era capuccetto rosso Era bella fornita Oh c'è altra agenda Raga Bella c'è la safe Eccole da me 2 42 42 bianco 42 bianco Le squagliate Po Oh Oh Ma no ma squaglia Sto fucile D'assalto Sopra lì Oh da me Si Forse sono due Quanti Fratti Fratti Tutti i fatti Framadonna E' risco la pasta Sono diventati Fratti C'è un altro Forse Per il tetto E' andiamo Aspettiamolo dopo In caso No Non c'è Invece Debo del gioco Massimo Come puoi fare Con un colpo Solo uccidendolo Con lo sniper Credo 198 E' il massimo Che ti danno Che puoi fare In testa Ovviamente Raga c'è No un altro Qui Si arrivo Di cose Di ande energetiche Ah Che io Una nuvoletta Che io Una nuvoletta Che Ha gelato Vondello In che senso Danilo In che senso Danilo La nuvola È che però Un bel setup Ma Ti devo Devo dire La si prende La si prende La si prende La Con il nostro bellissimo Capitano delle coccole Spariamo una A Mi Gli vedi qualcuno Da lì Un'aura È il full team Qua facendo ronzo in destra no ma era un bot 198 qui a questo e one shot 198 un altro a terra i buscano a squagliati hanno pushato ragazzi ok ci ha provato a pushare questo stolto occhio fish driftato 55 bello arriviamo fra stiamo fai dando un altro team bella let's go e andiamo andiamo e andiamo bella bella ci stava la cosa mi è piaciuta questa acqua bella bella anche bella competitiva questa partita 15 bombe operative e si vola mi piace mi piace ma sta dire come vengono con loro ma che dici ancora guardava provare a cambiare skin si anch'io andiamo a cambiare tutti skin andiamo dopo questa vittoria si cambia skin forza e mettiamo che vogliamo mettere voglio mettere una skin ignorante eccolo guarda il leader comandante attacco mecia metto questo qua bellissimo questo lo metto lo metto non so che cos'è il suo dorso però il sudorso te lo dico subito dovrebbero essere come cazzo te lo posso spiegare io c'ho il jet set tipo un jet pack si si non ho idea no vabbè ma non voglio usarlo hai un'altra versione ancora tra l'altro si si ma c'è un sacco di versione grandi grazie michael vedelo come dice cosa stai bella jamal grazie mille del like e benvenuto in chat o metto un po il carlino valenziaga basta in definitiva eccolo finalmente finalmente l'hai uscito eccolo madonna andiamo troppo serio il carlino valenziaga si è molto serio carlino è la qualità ragazzi è la fottuta trap alla gama mia la chiamava la tempesta come la chiamava ste come la chiamava tuo figlio la gama mia o fra che la devi insegnare che cos'è la tempesta il fulmine di go di dragon ball è la cane a me ha il carlino semiglia a pindox minchia comunque non lo so fino a quando ero fino alle 5 è molto strana la cosa ma non credo che ci riuscire ragazzi sono già a pezzi ai 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 mi faccio l'ultima perché sento vento nelle cuffie si è il carlino distrae detto bene michael è proprio lui allora perfetto dove si va dove si va stretto sonno lento andiamo a stretto va bene tutto ma bene tutto io buono vai col carlinozzo e si vola usano spraio nemo carlino fare troppo bello mare molto 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 è il carlos il topo che giro ma i copi hanno avuto una bella idea voi andonino è bellissimo sono cioè sono d'accordissimo anch'io che sia stata una bella collaborazione allora ci siamo mitraglietta buona buona i like it ok la bomba ballerina la portiamo potrebbe servirci devo fare un emoto qui non lo so io voglio fare le sfide di il drago sharon mannaggia che mi secco giocare per fare le quest anch'io la vorrei fare veramente non dici mettere perché le fai tranquillamente volete da me gente qua e volete proprio bonita proprio bonita ma non ci posso credere no che ha fatto cazzo di mani un video in america io te l'ho lasciato perché pensavo che l'ho sbagliato quattro volte col pompa da vicino ma delle volte capita proprio i colpi se ne vanno a po po oddio la cassa è rimasta sospesa nel nulla attenzione fenditura rottami in arrivo è uscita una pozzetta scusate ho tirato delle fenditure a rottami random come c'è questo rumore il rumore di una bella cassa con dentro un'arma leggendaria si trova l'an energetico oggi ho fatto due partite non l'ho trovata fra la trovi o in giro random cioè oppure la trovi nei distributori ci sono dei distributori che le vendono poi c'è in questa zona della mappa qui c'è la came house la casa del genere delle tartarughe e lì dentro la trovi tra l'altro lì trovi anche un distributore che le vende non è difficile la trovare si trova dappertutto e poi ci sono delle capsule della capsule corporation che sponono nella mappa e se le segui poi le vai ad aprire e dentro ci trovi l'an energetica e la nuvola speedy c'è una cassa in questi giorni lavorate no mi entro in ferie possiamo organizzare tante cose assolutamente sì tra l'altro possiamo organizzare anche quel che bel l'andata in qualche posto a fare perché bel blog che bel blog minchia fra veramente si possiamo fare assolutamente possiamo andare a parco avventura che lo diciamo con cristina di andarci da un bel pezzo tanta roba il parco avventura però da quando l'abbiamo detto fa brutto tempo però nel tempo che si è sistemato possiamo andare tranquillamente ma tu fischi quando si vengono a fare una vacanza qui in sicilia anno prossimo è 1400 chilometri vabbè ma ma a distanza sono ormai non conta con gli aeree io penso questo assolutamente comunque siamo lontani dalla safe sto correndo ma figura di un piacere Antonino un piacere caro dunque il carlino che corre è troppo vivo voglio vedere il carlino fare un'onda energetica la safe lontana infatti io sto correndo già da un'oretta mi dà uno strappo fermati 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 tu dove abiti Antonino io abito a Catania tu dove abiti invece provincia in realtà di Catania oh ma che cazzo forse c'è gente da me che succede? fatto danno fatto danno fatto danno che è successo? niente ho perso il controllo della macchina mi credo di aver fatto esplodere tipo no ma nulla di che è alla fine oh guarda questo in a ci sono un paio di persone in acqua da me io ho preso la nuova letta arrivo l'altro fatto fatti due ricarico un po' tutto non muoiono veramente basta l'altro fatto l'ultimo da qualche parte non so dove sia però ok ah da dietro ci sparano fischi hai visto? buona serata Danilo buona serata fra grazie mille a te per la bomba che ho provato oddio dai fammi uscire ecco 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 da dove? 50 50 è buonetta maledetti 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 eccolo ciao bella per te bella per me ma no ma no un altro assorso madonna cg ma what? io ho tirato un colpo troppo forte madonna è morto? gg? si penso proprio di sì direvo una pozzettina fai così eh riecco di francesco da posto fra io ho tirato una ballerina per sbaglio no mi sono colpito da solo ok ok situazione ripristinata sembra sembra sento spari dritto davanti a noi si si spavano su quella montagna lontanissima abbiamo anche altri spari a sinistra vabbè direi di andare in safe ragazzi devono rientrare c'è un bel po' di tizi eccoli qua sopra oh si sta appicinando una bottiglia con si sparano bomba ballerina su questo fatto uno fatto oh un altro ragazzi occhio ma quanti sono? ma quanti sono? ma dove sono questi? quanti sono? uno è fatto ce n'è due qua davanti a me per adesso ok li vedo si no li vedo raga uno distrutto eh ma non ho colpi no 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 non c'è non ho vita non ho colpi se vi avvicinate ve li fate perché stanno tutti senza vita sono qua dietro sono messo troppo male dentro la casa dentro la casa dentro la casa e lo va per restare ok visto ci sono dentro ragazzi lo sta restando vedete sicuro a destra ce ne vede una a destra dietro il palo a destra ce n'è una a terra a terra fatta rissima no no mi hanno preso c'è l'ultima one shot raga finiti colpi è finiti colpi fatto si bellissimo madonna che sofferta da questa raga io sto morendo quindi è vero che ti devo restare perciò che c'era la scheda 2 scusami no no 3 1 oh ma ti avevo preso vabbè da rip rip c'è no senso ti avevo preso no fucking sense dammi la pozza ooooh ok facciamo un attimo delle bozzette lascia anche una oh mio dio me hanno sciottato pesantemente dalla montagna occhio occhio fish sono safe qui sono safe se riuscite a venire da me ma che servono la va fra non doveva prenderà provo a seguire mi circondati guardate completamente circondati ragazzi dobbiamo salire verso su no no ragazzi no niente se non saliamo prendiamo il test prendiamo il test il problema è che non ci sono diciamo circondati io però c'ho le pozze se vi servono è una sciottata no ragazzi assurdo ha fatto a me da 137 metri e mauria da 167 ce la fai salire su si sta salendo ferma qua salate ragazzi hai fatto la clip grande tenete queste tramortito sempre lo stesso nel tramortito un altro da 250 metri recupero la tua scheda occhio a sinistra nella montagna lo so lo so che sono la fra ma la recupero ormai la scheda poi me ne vado ho belle queste qua ho trovato dei medici riporto riporto ce ne abbiamo a destra e sinistra siamo a panino si siete completamente chiusi quindi da giù a te verrà bene ma ne vorrei direi ma io vi direi di andare verso di qua ma ci abbiamo una sensa che arrivo via 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 andiamo grazie io ci muoio io ci muoio no maure non ci muoio non ci muoio forse sei maure maure non mi sei pagato no ce l'ho da tutti i lati ragazzi sei morto mettete spogli in medica maure in medica e come faccio e mettitelo mentre che sei così a parte che la safe è qua aspetta a tre ma 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 perché ti fanno ma capi chi sa ma vuoi oddio no vuoi ma do troppa gente si è tutta bloccata ragazzi è diventata una situazione di panico generale era uno strano al centro si domani si lavora va bene va bene ciao ragazzi ciao buon lavoro grazie della compagnia ciao a tutti ciao grazie a te ciao ciao eh che fama vabbè il lobby a sto punto se io sono il lobby vado un attimo in bagno nel frattempo ma giusto cioè io di start ci siete tu sta chiacchia io non ho male sta così ok va bene buonanotte buonanotte raga buonanotte buonanotte notte maure allora andiamo di coppie e così schifo ma la voglio anch'io una skin trappo come questa ballando grazie mille di like ma questa skin è troppo bella ora lo metto si ma framo tu ancora a code ci stai giocando ma ora non ci gioco però ogni tanto ci vado giocando si normalmente stasera me lo metto a scaricare ma ne facciamo anche i partiti da poi che è davvero troppo tempo che non ci gioco va bene va bene comunque fra quando vuoi mettere pronto vai pure io vado in bagno si si cerco la partita ok 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 biggie oh twist medrex medrex viva la figa ragazzi viva la figa sempre comunque guardano quel carlino su egg di giuliano ma vabbè non ce la risalvo mister julian mister julian operativo perché non fare la richiesta come creatore stai perché praticamente mi sono buttato vado a bobine brulle ti spiego praticamente la potrei fare tranquillamente la richiesta da creatore perché l'unico requisito per farla è tipo avere una pagina con mille follower di gaming una cosa del genere quindi potrei farlo tranquillamente soltanto che purtroppo al momento i codici cioè le richieste per i codici creatori sono chiuse quindi devo aspettare che le riaprano anche perché non è tanto per il codice creatore ma per la possibilità di fare le partite private che è fighissimo veramente bello pensavo non c'è pensavo c'è gente qua sotto c'è il bocciolo anche da me qua c'è gente è una bomba bello è un'arma strutto è fra c'è gente qua dentro occhio oh mio dio sopra sopra questo coso ma mi spavano da tutti i lati fra cazzo assurdo madonna ma che cosa mi stanno smalando poi vorrei capire no 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 fra sono completamente chiuso da tutti i lati dietro fra qua oh mio dio ho visto ho visto tiene due c'è un gogo e uno ah no è giù la montagna era col DMR mi è acceso ah sono morto madonna santa no eramo completamente circondati ma non ho capito niente praticamente ma ancora ho capito a sta partita boh boh c'è stava uno nella montagna nella collinetta lì a destra questo tizio con gogo uno là sopra ma what the fuck bro what the fuck what the fuck ma fuck man ma il buon è ma eh non lo so dov'è cosa c'è poi gli mando un messaggio mi scrivo se è on allora allora io penso comunque altro che 5 ne faccio un'altra due così che stacco le 5 del mattino anche perché avevo specificato se mi facevano se mi facevano compagnia i sub qua sono andati tutti a dormire quindi GG arrivederci grazie ci sta mamma mia finchia è l'una e mezza si 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 è fatto abbastanza tardi poi avrei fatto fino a più tardi ma alla fine riperozzo ma ci sta vai se i ragazzuoli sono andati madonna che suono parapa 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 diceva mi metterò a fare un badinissi in cine così si siamo in due Michael al momento siamo rimasti solo in due fra ragion per cui staccherò fra avevo detto se mi facevano compagnia i sub fino a tardi allora stavo però raga che faccio fino alle 5 in singolo qua divento spengo facciamo pinnacoli si cattivissima quella agguerrito proviamo a fare una win nozza si si cerchiamo di giocarcela molto più safe va bene andiamo così almeno ci stiamo assieme ci buttiamo nello stesso posto più o meno va bene andiamo tipo che ne so c'è una casa perfetto ti dirò notte fra domani e domani vincenzo domani caro grazie mille per essere vado a non è sceso il giorno non è sceso il giovedì eh ok allora ti raggiungo subito ti raggiungo subito no farci voi credere che non c'è una c'è una cazzo di pistola capito manco un'arma pure sto andando alla casa accanto un attimo a cercare un'arma ok un imr arrivo ma non ci credo cioè io gestendo se ti mando una foto Mario ho due pistole ho due pistole no fra me ti credo ti credo bene io trovo l'imr per caso aspetta che devo cercare un'arma questo fra occhio che c'è il fucile a pompa non so blu sicuro no ma se mi serve un'arma di rinforzo perché se no qua ci sono le alelle guarda qua ho sparato il tizio accantonato quale gioco al chirurgo fino alle 5 hai tempo per imparare a distraggere la mano si se ci gioco fino alle 5 domani mattina mi danno la laurea probabilmente veramente la pistola così senza capire niente ristola hanno tirato una fenda infame hanno tirato dai infame ma cavolo si sale sopra andate sempre da qua c'è uno lo senti non sotto eccolo un altro a destra è arrivato non ci credo che arriva un amico ma quante sono tutti nei detti così fra no vabbè dai le faccio un altro vorrei giocare ma ti ripeto è una serata dedicata agli abbonati fra questa sera gioco soltanto con gli abbonati al canale un bel c'è scritto pure in descrizione fate le stesab ragazzi su 5 euro è un pacchetto di sigarette questo con lo scudo che sta volando si che frate faccio l'ultima si si faccio l'ultima in definitiva è deciso se magari la trovasse dici sarebbe già un passavanti si decisamente si però non si può avere tutto dalla vita dai ma sono indeciso di scendere a prendermene una oppure no sono troppo indeciso che mi rompo troppo il cazzo veramente il 1.40 è un orario indefinito non la troverai mai questa partita madonna io mi ho tornato un buccato non è scasso ma zè è proprio bravo devo dire a piccare dietro gli angoletti è bravo è bravo quello lì si si è veramente bravo è il campero tipo un pampero mamma mia che caldo si ma comunque si io sono col climatizzatore acceso da quando ho iniziato la live ma voglio che si fa sentire Michael sono a pezzi frate lo giuro no no ragazzi ora stacco ora vado mi spiace che non l'ho fatta l'avevo fatta fino alle 2 dai mancavano 3 ore ancora vabbè no che minchia oh vegeta c'è madonna una testa gigante guarda frate prego vuoi far ridere è gigante è deformatissimo c'era un gogo e vegeta accanto ma vegeta è troppo strano ragazzi ma che cazzo di problemi ha veramente ascolta io sono un fan di dragon ball fra da sempre è lo shop cioè non dico che lo shop però fra sono pinnacoli di nuovo dai come va va questa pinnacoli sono fatte veramente male sì sì ma anche gogo stesso è fatto sì sì lo vedete da quant'anno sembra down non facci sempre down no però ma c'è no sono in generale proprio hanno qualcosa cioè sono allora da console tra l'altro sono disegnate male perché con non è che sono disegnate male con la grafica delle console non riesci a vedere gli occhi aperti dello skin ce la vedi con gli occhi esatto io invece da computer le vedo con gli occhi aperti c'è questa differenza però in generale i disegni proprio non è che sono madonna io ho fatto un 74 in testa questo si è sentito male era sceso ma ci sono tre pistole qua sotto non ci voglio credere è una maledizione ci sono solo pistole mamma mia che vuol dire stanno scannando qui dentro che è una terra oddio che scambio che ho fatto a questo io l'ho buscato dentro nel fattamento vai se ne un altro ti vedo è uscito è uscito è uscito è uscito è uscito è uscito ma lei ha preso con la bomba si è preso solo si è preso da solo bello la famosa mi chiede che è ritardato questo qua proprio si è se si è sturmato sarebbe si stava l'avrà sbagliato e vabbè mi spiace per lui non c'è niente ma qua c'è un po' di roba frasi vieni qua c'è un po' di lutto arrivo arrivo sono presi tutti loro oh top grandi che ci piacciono c'è sta cassa madonna che armi ragazzi ma che armi che trovo in giro comunque c'è porco giuda ma perché le persone tipo subito trovano l'ulto così oh cassa legend sull'escavatoros ma che schifo perché non se la schifo la mitraglietta a carica proprio oh mi sparano oddio sopra il portatile 45 ok si si voglio di sparare il camion è bello resistente amico mio 48 48 bello lancia a lui come si è caminato 45 non ci arriva oh ma hanno shottato con lo sniper fra oddio sono pronta a bella e hanno sempre lì sopra il portatile non so se era il suo amico no way va bene basta si chiude qui la nostra serata di tryharding ma con spider-man che ci ha spezzati fra io vado a dormire fan cura i camper si comunque va bene si buonanotte buonanotte fra domani ciao domani ciao signori detto ciò è arrivato quel momento della serata io stacco e vado a dormire e sono stanco morto ve lo dico mi sarebbe piaciuto fare una bella notturna fino alle 5 raga ma alla fine non è andata così raga detto ciò vi auguro una buonanotte e noi ci ribecciamo qui live sul mio canale domani mattina ragazzuoli un bacione a tutti ciao raga notte a domani ciao belli ciao raga ciao raga